Marcello Procaccini, passione natura, passione fotografia, che unite e danno vita a cosa? Beh, sicuramente danno vita alla scoperta, alla scoperta e all'osservazione, all'avvicinarsi alla natura, a stare a contatto con il bosco, con l'ambiente e quindi danno vita sicuramente a una riscoperta che è necessaria oggi. Lei utilizza fototrappole per catturare? Per catturare immagini, prevalentemente per catturare immagini, perché con le fototrappole possiamo scoprire quello che altrimenti non riusciremo mai a vedere, diciamo, quindi è un occhio silenzioso e discreto nell'ambiente. Da Civitella del Tronto a? Ah, ovunque mi porti la passione, quindi andiamoci, spostiamo verso il mare oppure verso la montagna, ovunque ci sia qualcosa da osservare e da vedere, insomma. Una passione che coltiva da tanti anni e in questi anni che cosa di particolare è riuscito a immortalare? Beh, diciamo sono 5-6 anni che lo faccio con l'ausilio delle fototrappole e sono riuscito a immortalare, a parte tante specie di animali che non sapevo neanche che ci fossero, tipo per esempio il gatto selvatico, che è un animale molto elusivo, schivo, del quale non c'è neanche una mappatura in Italia, quindi è già questa una cosa molto particolare. Ma poi sono riuscito a riprendere un capriolo completamente bianco ed è la prima volta che venga una cosa di questo in Abruzzo, quindi già questa è una cosa eccezionale. È una femmina, l'ultima volta che l'ho ripresa era in estate interessante, quindi speriamo che abbia partorito dei bei caprioli. Ma dove si può dire? Sì, la zona è la zona di Rocche e di Cipitella del Tronto, quindi siamo qui vicino, sempre a ridosso della montagna di Campli. Che cos'è una fototrappola e come funziona? La fototrappola la dobbiamo considerare come una macchinetta fotografica, diciamo così, che però è in grado di riprendere anche dei video, di girare anche dei video. Viene azionata da un sensore di movimento che aziona l'obiettivo e quindi girano immagini di l'animale che si trova davanti all'obiettivo stesso. Di notte ha dei led che illuminano, diciamo così, la zona con dei raggi infrarossi che poi il sensore dell'obiettivo va a elaborare e ci ridà delle immagini in bianco e nero. Quindi diciamo che è lo strumento adatto per non essere invasivi e poter scoprire appunto il bosco alla natura al meglio. Ecco, che emozione si prova una volta aperta questa fototrappola e tirate fuori le immagini? Guarda, l'emozione è tanta, tanta l'emozione, tanta la curiosità, però è tanta perché praticamente vedi qualcosa che altrimenti non vedresti. Allora ogni volta che riesci ti rivia la scheda, a parte che le immagini si possono vedere già direttamente sulla fototrappola, quindi già puoi vedere subito se hai ripreso qualche animale oppure no. Ma poi quando vai al computer e metti la scheda e vedi, oddio, hai ripreso un gatto selvatico oppure hai ripreso un lupo, sono belle emozioni. Sicuramente sono belle emozioni. Ecco, li piacerebbe riprendere un animale in particolare? Guarda, siccome ultimamente sono diventato nel corso degli anni come un punto di riferimento, mi sono arrivate tante segnalazioni dell'orso, dell'orso marsicano qui in zona, che è una cosa di per sé eccezionale. Quindi ho piazzato diciamo delle fototrappole in luoghi strategici per poter riprendere questo orso e spero di poterlo riprendere. Sarebbe veramente un bel evento per Civitella e per il Terramano in generale. Tutto questo materiale dove si può trovare? Tutto questo materiale si può trovare su internet. Io ho un canale che si chiama Fototrappole e fototrappolaggio. È un canale rivolto soprattutto ai principianti e a chi si vuole avvicinare alla natura e riscoprire la natura tramite l'ausilio delle fototrappole. Quindi su questo canale possono trovare dei tutorial, possono trovare delle recensioni dei vari modelli di fototrappole oppure possono trovare video di animali che dimostrano quello che la fototrappola è in grado di ridarci.